Fondi per la nuova residenza universitaria a Pescara, Regione e Comune non perdano questa occasione. Questo il richiamo del Partito Democratico che ha ricordato questa mattina attraverso i suoi consiglieri regionali e comunali che il primo termine per la presentazione dei progetti scadrà il 17 maggio del 2022 e il secondo il 31 gennaio del 2023. E si tratta di termini stretti per aderire all'impegno che il Consiglio Comunale di Pescara ha rivolto al Sindaco, alla Giunta regionale e all'Azzu. È un bando che ha pubblicato il MIUR il 16 febbraio e bisogna correre perché è un'opportunità notevolissima, sono 467 milioni di euro, 300 milioni di fondi del PNRR il 40% di questi fondi andrà a regioni abruzzesi e c'è la possibilità quindi di realizzare nuove strutture per residenze universitarie quindi con costi calmierati per studenti meritevoli di borse di studio e che hanno bisogno appunto di avere alloggi per poter studiare. La cosa che dispiace è notare che malgrado si avvicini, siamo a meno di un mese dal primo scadere del bando non ci sono iniziative della regione del comune su questo punto di vista. Noi abbiamo sollecitato il comune con l'ordine del giorno che abbiamo fatto approvare il Consiglio Comunale perché si agisca celermente, davvero questa opportunità non può essere perduta anche perché la disponibilità di alloggi universitari è un attrattore fondamentale per la scelta universitaria perché l'università è un elemento centrale nello sviluppo della città perché è anche una questione fondamentale di diritto allo studio senza la disponibilità di alloggi universitari molti studenti non possono permetterselo quindi c'è in gioco il nostro futuro, Pescara non può perdere questa occasione.